bloccato con l'Everfrost quindi possiamo fare tipo il Winter Banshee pure pure il Banshee hai visto il raffo crampo? si Skipper grazie al follo primo minion in lane non si perde mai facciamo subito che avvierà a Darius che siamo top 1 rise west e il motivo per il quale lo siamo prima che entra nel bash W in faccia boom 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 raising the wave intelligenza boom 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 intelligenza SS lui non c'era il TP non c'è proprio il Flash noi ma io ti ho appena detto Grace che mi sta Darius e tu vai dentro col bash sapendo che io non ti posso aiutare non stai bene no Ione sono tipo duecentesimo di west iniziamo male Frostblood è attima per se però Tancan ci puoi andare a kill va bene Darius potrebbe andare dove sta Grace arrivo è vero 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 Buono Sì Rez è fuori dal meta Ha voglia Abbiamo il TP Dopo di utilizzare Non c'è lo quattro Però Diana è topside Ma non c'è niente da prendere Bravo Darius Bravissimo Sei un genio Senta la pressione Che sta giocando il top 1 Rise e West Sono i miei ragazzi Un brutto sto gank Spieghiamo che Diana è topside Vieramente brutto Non c'ho mana Spieghiamo il mana flow Ma sto Darius è veramente stupido What the fuck Questo tutti possono essere cimi Questo c'è una merda in testa Manco Manco ci fa regalare Guarda Aiuto questa cosa Arriva il minion sottodore Che basta Attacca questo Minion Regalamo Parliamo Stiamo Tutto in seco Into Feeble Winter Ok Oh Oh Ci sono le mani storpie Andiamo a pushare Per me non esiste il meta che no Ragazzi Io sono il meta Posso fare un ganchino mido prendo Potere Le mani storie Secondo pe'le Taria Altro Questa 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 Pochi danni pochi danni la mano ha pusha veloce arrivo verso top Manca ha flashato quella pensate che cazzo gliene frega 2 push veloci abbiamo le piantine poi Tori anche a mid TF1 poi danni in più ce li ha Ciao Questo è il momento in cui siamo top 1 Rise of West Grazie mille del supporto signor Lamelle 12 mesi di Twitch Premier Benvenuto le cani cani Welcome back Un anno Lamelle un anno un fottuto anno Ti rendi conto che è un anno mate Welcome back Mo' ricordiamo Intelligenza Vedete che mo' che mi ero del culo io potrei andare full aggro sto game Noto non can stanca Todiana si viene in e mi distrugge Signor Erios 10 mesi Twitch Prime Erios grazie mille del supporto Benvenuto le cani cani Welcome back Ma Rise of the damage li fa pure adesso Non è che li fa troppo nel tempo Due mesi o no beach bro Un piacerone per me Un piacerone Però da Dooku I danni li abbiamo fatti no? Eh l'era il Dagon Scalo mid Così non prende la torre cosa E' l'era il Dagon Aiuto Grayscord Vosso qua Ben Aiuto Forse devo stunnarla invece che fagli Quello che ho fatto O potrò andare ulta via Non lo so Potrò fagli la W invece o potrò fagli il danno Piuttosto che fargli La W sostitore e stunnarla lì Trochilli trochilli mate Occhio al mid Trochilli Non so se vogliamo far Fibble Winter o meno Tenarine però se faccio il Banshee Va bene lo stesso Conto Darius Fibble Winter o meno Comunque uguale Potrei fare Archangel Banshee Però ci metto troppo pure a scalare Invece se faccio Fibble Winter Poi Banshee Riesco comunque ad essere tank A fare danni Non lo so Faccio pure Banshee Non posso far Fibble Winter Quindi devo fare Banshee E sicuramente lo faremo il Banshee contro quel team E donna per forza Archangel Il sustain mi farà tankare di più Fibble Nugar Chi è quello che va top a cover A GF non ce la tengo vero è gone vabbè no uso 3 dita, uso 3 dita, non uso il mignolo io guardate che Diana è tank Diana è tank però muo' è merda, c'è una pisa da bill però il bascio è troppo good anche contro cosa contro Lux un po' è Buono. Drago. Secondo Drago. Fai una bella Infernal Soul dopo. Cancel il Drago. Cloud. No, 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 d'accordo. Vado io a fermo a top. Ok. Possiamo una mera di gold. Possiamo poter regalare. Comunque farò Archangel Banshee, va. Pregalo. Faccio Archangel Banshee, poi i rub don't voice off quello che ne viene. Bene. Easy on my way. Abbiamo un bel power up, eh. Abbiamo avrete un bel power up. Sai come sta messa? Bene, cazzo. Non ci vediamo dietro. Cata puttana, troi. Come i bambini, mi può lasciare solo due secondi. No faction botta. E' un faccio bot. E' un faccio bot. C'è un faccio botla. Il problema è che Starad è pure più forte rispetto al primo Questo qua è da chi l'ha Un po' di Arras Un po' di Arras Perchè? Oh, nazioni a cazzo di cane. Eh, bravi. Guys, lay simple. Banshee, Banshee. Me li fai te, Gabbozzi? Me lo fai te, me lo passi? Serio, se comunque non si è messo male, eh? Facciamo la Banshee, se me è troppo importante per le contro Vex di Ana, anche se non sono troppo fiddale, però... Se vuoi il fatto di Ana, venite, fa l'R, non ti prende. Vai, huge. F è ulta. F è un 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 ulta. ... F è un ulta. dobbiamo giocarla slowly sto game, dobbiamo giocarla slowly, non deve morire Grace, vediamo che mi differenzia il danno, Senna quanto c'ha, 75 soul, Senna deve scalare, appena Senna scala, la differenza la vedremo, io ho il tp eh, Dica, lasciatemi il sub e benvenuto alle gagne di gale, perché non molti? Ma, hai riuscito a dire se ho portato, le ho, eh, grazie il supporto, Senna di Amatiste, due anni, eri benvenuta nelle gagne di cane, non avveri meme dice, regaliamo, Grace qua dopo volta subito e killare Vex, non so perché non l'ho fatto, non so in realtà proprio quanto tanto le fa la Banshee qua, però mi si aprirà più in là, quando vediamo fra Flash e Harry, solo per pena addirittura, porca miseria, non so se c'è, gaga sfuga. Ma andata il suo osage sto qua. no ma è tato quella Q? credo è morto top Chris pure è abbastanza scarso non è stato il midda se ti provo a tentare di stile al drago quando torri mid da meno il baron torri mid da meno il sicuro c'è dato o no? vanno prendere due torri mid ma te che te frega bravo TF un tipo a manco mid oh quelli erano due torri mid due torri mid erano ma per lui magari era meglio giocare così stanno tiltando credo di mente i miei 14 sen è ancora al 9 sen è ancora al 9 questa cosa mi va bene se no tu devi expare amica mia un po' un po' un minuto bravo Crazy ha preso due torri bravo vanno a fare il drago il loro secondo bravo Crazy bravo Crazy qua ha fatto un'ottima cosa Crazy baron 40 secondi finito il tempo che regala non ce l'hanno più faranno drago e back immagino push la prossima wave se riprende questa bravo Crazy ottima cosa no ma non ce l'hanno più non ce l'hanno più no ma non fanno niente hanno finito il nascio oddio bot boi staff rabba non sto game serve il 16 però Mario è il 15 si si la difendiamo mi la difendiamo Crazy rimani rimani Crazy W R Crazy 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 ma se non ho manco le azioni di fare ultimamente boh quasi al 16 dai 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 stai zitto che sei stupido a sfak zitto stai intando parli perché parli stai intando e parla non è normale no stai intando stai zitto 200 lo voi staff può capitare che uno inta ma sta zitto poi poi staff pronta abbiamo un 16 no no nico il late siamo strong il problema è come come fediamo la Banshee ci aiuta ad autopilarci un po' però dobbiamo come fediamo perché abbiamo Senna che non c'ha ancora danni sta all'11 poi 96 soul e poi abbiamo Crazy che è un milì praticamente contro quel team non è così facile andiamo andiamo dritti andiamo dritti va bene va bene va bene va bene la monotrastato forse ho intato eh era buono se entravamo là io mi riposizionavo e Darius moriva però vabbè c'è Nashor se volete era buono era buono però vabbè va niente Nashor 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 assolutamente importantissimo kick up di loro solo Luxe che fa ti però sicuramente va bene vabbè devo volerlo tipo non mi servirà niente il TP quindi ormai creo però e basta tra le bella torre bot magari Quella potrebbe essere buona per andare insieme al drago Clearing top On my way bot Faccio pure una ridlessi E la top ci puscia Che è la cosa che più ci preme Aspetto un secondo qua di fare il gruppo ai cannoni Vai Non morite però, non morite, non morite Io mi sono morti Kite back, kite back, kite back, va bene Va benissimo Top puscia per noi, tantissimo Ok, I was baiting Puscia mid Puscia mid Ma Occio, occhio mid, occhio mid Tocca prende qua T2 bot T2 bot, T2 bot, T2 mid T1 hot bot, T2 mid Eh cioccolope, magari Non sai giocare bene a poker Se volete avere una mental buona ti aiuta a vincere Ma se non sai giocare Eh Fede, ma non lo so Ma non lo so, ti dico la rita Non ne ho idea Fede Io razzo lo gioco perché mi piace Perché sono abbastanza strong con lui Però non è proprio un campione forte in meta Ok, questo è ferito le bot Mi serve qualcuno che mi copia del mio team però Nessuno, eh, grazie Fai il sero top Oh, via Isto che ci voleva Rabaton, 1300 Meno Se ne avessi fatto proprio Sgillalo, ho killato Se vedi Avrebbe rimbalzato L'avrei killato Rabatino troppo Oh, cazzo Jeff è matto Oh, cazzo ha fatto un flash un po' da merda per l'altro qualcosa è sempre curioso non odiatemi se lo banno non uso core QA ma mi sono andato a 100 volte con tutti i bannati non so più che pare Ione può piccarlo Ione è carino, bello, divertente però anche lì devi essere un po' bravino bot push per noi? lo push per loro let me reset bot prendo io il blu tempo prezioso, tempo prezioso questo che sto sprecando però tanto ora wave andava comunque così poi regalo pure che c'ho le risire che è huge yes, nice non morite qua attenti se ne muoio strong facciamo una cosa aspettate aspettate guardiamo per lì è un po' bed ecco posso sostenermi il mio team deve pilare me però così siamo troppo splittati io devo andare al flank bot push a me, noi ve lo tu push a loro hanno troppo range rispetto a voi se vi andate tutti nella stessa zona vi vi silurano e basta perché state tutti nella stessa zona porco dinci giardino è molto strong non mi piace sta call per niente per niente invece è andata bene non male andare back andare back resettate vado a push a io top bot push per noi buono 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 senna è al 15 prossimo fight un minuto e 40 c'è il flash purtroppo non abbiamo preso il baron il che è un bel peccato io andrei top mid perché top c'è una web enorme no ci fa tank edge mid vabbè basta c'è sta uno mid aspettiamo anche grace un po' di ana serve il baron buff non è cattiveria però vabbè vabbè niente ragazzi io non lo so allora no non ho veramente idea perché me lo perdiamo non so come gioca non ho più uno di loro non trolla non sto bene dai non ho più uno di loro di loro assistenza da xavi messi 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 Ancora messi, 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 ancora L'unico da aver preso essere più del team Undici kill Quindi ci sarà la ruota ragazzi Vi chiedo Volete tenere trenta pagnotte E' uscito il video di Richard Vediamo se fare un altro game O vedete il video di Richard E poi andiamo a smettere due Fall Guys Uno Per tenervi trenta pagnotte Due Per gamblarle Parole bollenti Parole bollenti Tutti i gamblatori Eeeh Chi lo sa gatto Perfetto Adesso vi chiedo Ci sono tre tipi di rischi Basso Medio Alto Se volete giocare con rischio basso Low Spommate low Con rischio medio Spommate medium E con rischio high Spommate Con rischio alto Spommate high Prego chat Prego 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 Parole bollenti Rumiotto Chioccio la rumiotto Eeeh Molti high Vedo sempre Gente qua ragazzi Qua Siete tutti i tori Tutto high Va bene Ho già capito qual è La risposta è high Io allora prendo la ruota Due volte Back to back E' uscito Cento pagnotte Gelono a tutti Back to back E' uscito cento pagnotte Negli ultimi due giorni Vediamo cosa Non ci credo E' uscito di nuovo What Rumia Rumia pensaci tu Rumia pensaci tu No fucking way No fucking way Allora ragazzi Vi faccio un pull Ok Cosa vogliamo fare Che si fa Altra ranked O video O video Richard E poi Altro Due minuti per bettare Vi ricordo che Adesso controllo se abbiamo fatto 20 sub o meno oggi Andiamo subito a controllare Se abbiamo fatto 20 sub o meno Un secondo Ragazzi You are not going to believe Sei pronto? Top 1 Rise mondo Avete davanti ragazzi Il top 1 Rise Al mondo Questo è quello che avete davanti Ok Il top 1 Rise al mondo Ok Just this 1